Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca ancora un incidente sulle strade della provincia di Arezzo. Uno schianto tra un'auto e una moto nel centro del paese di Pieve e Santo Stefano attorno alle 13. Sul posto i mezzi dell'emergenza urgenza della ASL. I sanitari hanno subito prestato soccorso ad un ferito, un ragazzo di 24 anni che si trovava a bordo della moto. Il giovane è stato poi caricato sull'elisoccorso Pegaso e trasportato all'ospedale Fiorentino di Careggi in codice giallo. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti anche i carabinieri. E adesso invece torniamo a parlare della rissa in A1. Martino Di Tosto, l'ultraromano che era stato arrestato, ha ottenuto la messa alla prova senza condanna. I scontri si registrarono l'8 gennaio del 2023 e il tifoso rimase ferito e fu arrestato dopo gli scontri di Badialpino all'ospedale San Donato dove si era recato per farsi medicare una gamba. L'uomo, conclusi i 12 mesi, potrà contare anche sulla cancellazione del reato di rissa. Gli basterà in questo periodo svolgere senza incidenti lavori socialmente utili presso una polisportiva romana, come ha stabilito il Tribunale di Arezzo competente per territorio. Restano invece sotto indagine sempre alla procura aretina altri 33 ultra, 20 romanisti, 12 napoletani e un aretino che avrebbero partecipato agli scontri, tutti identificati dalla Digos. Restiamo sull'autostrada 1 Milano-Napoli per consentire delle attività propedeutiche al consolidamento del margine della piattaforma autostradale. Dalle 22 di lunedì 10 luglio alle 6 di martedì 11 sarà chiuso il tratto compreso tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Arezzo, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 sempre a Valdarno. E adesso voltiamo pagina. La città di Arezzo è infatti sempre più scelta da tanti turisti. In questo fine settimana quasi sold out le strutture ricettive. La città si inizia a svuotare. Tanti aretini in questo fine settimana già iniziano ad assaporare le ferie estive di contro. I turisti invece arrivano ad Arezzo e trovare un posto libero per dormire in città è sempre più arduo. Secondo un'indagine di Confesercenti Toscana realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, le strutture ricettive presenti nei diversi portali online sono quasi sold out. In questo secondo weekend di luglio il movimento più consistente si registrerà, facile dirlo, verso le località costiere e nelle aree interne della collina, ma ci sarà un alto tasso di saturazione anche per le città d'arte, 85%. Arezzo segnerà un dato ben più alto, il 98%. Per le aree di montagna e le località termali i tassi medi rilevati saranno rispettivamente del 77-75%. La distribuzione del movimento turistico nelle diverse aree regionali emerge anche dai tassi medi rilevati sui singoli ambiti territoriali. Valori elevate risultano per le principali aree costiere e l'isola d'Elba. Ottime aspettative risultano anche per il Mugello, il Chianti e la Valdelsa. Continuano a far discutere i monopattini in città dopo gli abbandoni selvaggi a preoccupare adesso è la questione relativa alla sicurezza. Sono silenziosi quindi dalla macchina uno non percepisce mai l'arrivo improvviso. Poi ci hanno molta anarchia nella gestione perché vanno in tutte le direzioni e da tutte le parti. A poco più di un mese dalla loro introduzione ad Arezzo scoppia il caso monopattini. Sono tante le segnalazioni sui social che appunto rilevano il fatto che questi mezzi di trasporto vengono lasciati un po' in ogni angolo della città. Ma a quanto pare a preoccupare di più è soprattutto la sicurezza. È una cosa assurda, proprio assurda, anche perché passano di qui a velocità, non guardano se c'è bambini, cagnolini, persone anziane, non vedo l'utilizzo. Anche le biciclette normali passano a tutto spiano, quindi no. Poi quelli che hanno messo verdi che sono da tutte le parti, penso che sia una spesa proprio inutile. Trovo che siano pericolosi, senza regole non va bene perché i ragazzi sono spregiudicati per cui possono creare imbarazzo. Il servizio di noleggio dei monopattini elettrici, inaugurato lo scorso 30 maggio dall'amministrazione comunale e gestito da una società privata, è attivo nel centro abitato della città e comprende una zona di sosta vincolata che racchiude il centro storico e i principali parchi cittadini, in cui i monopattini possono essere presi e riconsegnati solo in alcune specifiche aree identificate da un bollo adesivo posto a terra. Inutile dire che invece la maggior parte vengono lasciati altrove. Dopo le innumerevoli segnalazioni sui social c'è persino un gruppo Facebook che si intitola Avvistamento monopattini non identificati. Quindi possono essere anche uno strumento molto pericoloso per anziani, per persone invalide che hanno problemi di deambulazione e anche per i bambini. Quindi credo che il Comune debba discutere soprattutto su limitare l'utilizzo dei monopattini oppure in canali preferenziali. Il Comune ha annunciato molte sanzioni per chi li lascia in zone non idonee. I monopattini sono rintracciabili e con essi anche il cittadino che li ha utilizzati. Il costo è irrisorio e il servizio indubbiamente funziona. Ad oggi ci sono stati oltre 5.000 noleggi, una media di 170 al giorno. La sicurezza rimane il problema più segnalato. Ora non dico che raggiungono velocità simile a quelle del motorino, però comunque raggiungono i 40 km orari, 30 km orari e spesso sono utilizzati in maniera non congrua a quello che è il codice della strada. Pericolosi sicuramente andrebbero normati a livello nazionale, quello certo, però è uno strumento che ormai vediamo sempre più diffuso nelle città e magari avere un po' più chiarezza su dove dovrebbero circolare e ecco sì, un po' più di sicurezza, però per il resto li trovo uno strumento in più per muoversi in una città dove tra l'altro, in particolare questa, non offre più parcheggi liberi, non dà più la possibilità di muoversi altrimenti in centro se non a piedi, quindi ben vengano. La Francia, ad esempio, li ha recentemente vietati, quelli in libero servizio, dopo un referendum popolare. Sì, in Francia proprio un mese fa hanno addirittura portato in Parlamento e li hanno aboliti. Forse sono un pochino più intelligenti di noi, non lo so, non lo so. Un'altra polemica si era invece accesa nei giorni scorsi, quella relativa al maxiconcorso per infermieri che si era svolto all'Arezzo Fieri e congressi. Adesso OPI Firenze Pistoia ha attivato una consulenza legale per i candidati. Assistenza legale ai partecipanti al concorso Ester, quasi 4.000, coloro che erano arrivati ad Arezzo per un unico posto da infermiere, ma dopo le prove sono scoppiate le polemiche. E così, come annunciato, l'Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale di Firenze Pistoia ha organizzato un incontro con l'Avvocato Andrea Pettini con l'obiettivo di dare agli infermieri che hanno partecipato al concorso la possibilità di confrontarsi sui numerosi problemi emersi durante la prova. Sono stati tanti colleghi, spiegano da OPI Firenze Pistoia, anche non iscritti all'Ordine che hanno preso parte all'incontro con l'Avvocato. Abbiamo ritenuto opportuno mettere in contatto i nostri consulenti legali con tutti i candidati che riterranno di procedere con eventuali azioni da portare avanti singolarmente. Un passo ulteriore da parte di OPI Firenze Pistoia a sostegno dei candidati. Dopo la prova aveva chiesto ad Estar di vedere le domande e poterle verificare. Insieme ad OPI Toscana si era anche unito al messaggio di tutti gli ordini regionali per stigmatizzare l'alto numero di bocciature, non tanto per il numero in sé per sé quanto per la scelta di criteri poco pertinenti e ritenuti discutibili. A Ponticino prosegue la quattro giorni di festa delle Acli a Retine. Questa sera una faccia a faccia insolito da due protagonisti di stagioni diverse della politica, l'ex presidente del Consiglio e l'ex ministro Giuseppe Conte e Rosi Bindi che si confronteranno su temi sociali e sul dossier lavoro assieme al presidente nazionale delle Acli. Lo scorso giovedì invece Piazza Alcide Lazzari ha ospitato l'evento Il lavoro per la famiglia e non la famiglia per il lavoro. La prima tappa di un percorso sul territorio organizzato dal Dipartimento Famiglia e Stili di Vita delle Acli nazionali in collaborazione per questo appuntamento con le Acli provinciali di Arezzo. Vediamo il servizio. Noi abbiamo avviato un percorso con dieci tappe che toccherà tutta l'Italia tra il 2023 e il 2024. Siamo orgogliosi di questo inizio nel territorio perché amiamo mettere la piramide rovesciata, il territorio al centro, è nel territorio che si fanno le Acli ed è nel territorio che dobbiamo portare stimoli e punti di riflessione. Famiglie e Stili di Vita sono strettamente connessi perché la famiglia come luogo primario educativo può essere un incubatore di stili di vita sani, di stili di vita che abbiano attenzione all'uso dei beni comuni, all'attenzione al riciclo, all'attenzione a uno smaltimento opportuno dei rifiuti. Sono tanti gli stili di vita, un'attenzione al lavoro che non è solo prestazione e compenso ma è elemento di crescita della persona e della comunità. Ma alla stessa maniera sulla famiglia si abbattono purtroppo tutti gli stili di vita scellerati, inquinamento, uso scellerato dei beni comuni e quindi poi che magari sono limitati e quindi aumento dei costi, delle bollette, inquinamento temporali, disastri ambientali più che altro come quello che abbiamo visto ora in Romagna. Allora in questo percorso toccheremo tante sfaccettature. Il punto centrale è la sostenibilità integrale che è sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale messi insieme. Quindi l'ancoraggio valoriale è la laudato sì, ecologia integrale che vuole dire l'uomo in relazione con la casa che abita, l'uomo in relazione con l'uomo. Sono queste relazioni vive che costruiscono la coesione sociale. Ancora politica, Forza Italia già pensa alle prossime elezioni. Domani alle 18 infatti il capogruppo alla Camera di Forza Italia, l'onorevole Paolo Barelli, incontrerà il coordinatore provinciale Bernardo Mennini assieme ad una rappresentanza di amministratori e dirigenti di Forza Italia a Rezzo. L'incontro si svolgerà anche alla presenza dell'onorevole Erika Mazzetti e sarà l'occasione per fare una prima valutazione sulle iniziative da intraprendere per le prossime elezioni europee ed amministrative del 2024. Cambiamo argomento, le aziende aretine sempre più spesso sono alla ricerca di nuove figure professionali con competenze innovative e tecnologiche sui temi di transizione energetica e digitale. Ad Arezzo arriva così un corso di alta specializzazione post-diploma per rispondere a questa esigenza. Un percorso formativo di eccellenza post-diploma altamente professionalizzante con l'obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di accompagnare le realtà industriali verso le nuove sfide della transizione energetica e digitale. Si chiama Energy for Industry 2023, il biennio ad alta specializzazione tecnica e tecnologica rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni che Fondazione ITS Energia ed Ambiente presenta per il prossimo biennio ad Arezzo. Riusciamo a fare dei corsi attinenti agli argomenti ambientali e dell'energia che poi fanno trovare al 90% lavoro a tutti i partecipanti nell'arco di due anni in poco tempo dopo che hanno finito il corso. Credo che questi ITS siano veramente una potenza di fuoco per quello che è il mondo del lavoro giovanile e credo che vadano stimolati e accresciuti il più possibile. Ormai tutte le aziende coinvolte in ITS fanno molto affidamento sui corsi che ogni anno vengano portati avanti proprio perché li trovano l'infa per le proprie necessità professionali che poi danno anche la possibilità ai ragazzi di crescere. Un percorso nato dalla collaborazione con alcune delle più importanti realtà produttive del territorio aretino. È una sorta di meccanismo virtuoso che permette a noi come ABB di partecipare ai corsi di formazione con corsi sulla mobilità sostenibile e poi allo stesso tempo avere direttamente in azienda questi ragazzi una volta che hanno concluso il percorso all'interno della scuola. Quindi riusciamo a dare una doppia formazione. Molti temi sono di sviluppo piuttosto recente, quindi non ci sono formazioni che possano dare, formazioni diciamo così pregresse che possano aver dato le competenze necessarie. Quindi assolutamente sì, penso che questi corso e un po' tutte le impostazioni di ITS possano dare un'ottima risposta per le aziende. Presentato anche ad Arezzo il libro di Gabriele Merlo, responsabile delle guardie zoofile Leida, dal titolo Salva una vita. Fin da bambino mi sono occupato di animali, quando mi sono accorto ho scoperto cosa veniva fatto loro e fin da allora mi sono battuto per aiutarli, proteggerli e salvarli. È da quell'amore sbocciato quando era solo un bambino che nasce il libro di Gabriele Merlo, animalista e dirigente delle guardie zoofile Leida. Il manuale Salva una vita racconta infatti l'animalismo sotto una nuova luce raccontato dall'interno da un professionista che dopo anni di interventi e azioni mirate svela alcuni trucchi del mondo animalista. Il libro è stato presentato anche ad Arezzo nel corso di un'iniziativa organizzata dalla sezione a retina di Leida. Un libro mai scritto fino ad oggi che permette di proteggere, difendere e salvare gli animali in maniera concreta c'è anche una parte della mia vita e Salva una vita racchiude all'interno 35 anni di esperienza ed è scritto in maniera semplice, mi dicono anche coinvolgente e spiega semplicemente come poter fare, ripeto, a salvare, proteggere e difendere gli animali. È un libro adatto a tutti, sia all'animalista professionista sia invece al mero amante degli animali che vuole approcciarsi al mondo dell'animalismo. Acquistando il libro si contribuirà anche a salvare vite. Con i diritti del libro, grazie a Randaggi del Sud, un'organizzazione che ho aperto alcuni anni fa per gioco e oggi conta più di 100 volontari, ogni anno portiamo in Sud Italia tonnellate e tonnellate di aiuti e cibo a volontari e rifugi in difficoltà. E Salva una vita è anche un progetto multimediale perché all'interno di Salva una vita c'è un'email collegata al mio sito dove le persone possono mandare le storie degli animali salvati grazie al libro. Al Parco del Prato proseguono inarrestabili i giorni del Mango Music Fest. Questa sera infatti è il momento di Salmo, attesissimo con la tappa retina del suo tour. Domani invece, ultima giornata del festival con Alan Sorrenti e Planet Funk. I protagonisti della serata di ieri invece sono stati i bo stelle e comacose. Vivo stelle e comacose sono tornati assieme dopo il duetto di Sanremo. Lo hanno fatto sul palco del Mango Music Fest di Arezzo, ma ognuno con il proprio live nella prima delle serate a pagamento della Kermess. I primi a salire sul palco sono stati Fausto Lame e California in arte e comacose che tornano al Mango dopo cinque anni. Un duo nato nel 2016, una coppia prima nella vita e poi nella musica, salita quest'anno per la seconda volta sul palco dell'Ariston. Da pochi comacose hanno pubblicato il loro singolo estivo, Agosto Morsica. Sul palco del Prato poi Baustel, gruppo nato a Montepulciano, è diventato un punto di riferimento per la musica italiana degli ultimi decenni. Dopo otto album di inediti, sono tornati con un nuovo lavoro discografico Elvis. Passiamo alla pagina dello sport, al calcio. La società sportiva Arezzo ha comunicato di aver raggiunto l'intesa con l'Udinese Calcio da cui torna in Amaranto Mattia Damiani, che si legherà all'Arezzo con un accordo quadriennale. E poi, sempre in tema Under, in vista della prossima stagione, tra gli innesti per la formazione affidata a Mister Violetti è stato ufficializzato il nome di Mattia Capitani, attaccante classe 2005. E sarà invece una notte di premiazioni, esibizione e di intrattenimento con il filo conduttore di celebrare i valori dello sport, a quella di martedì 11 luglio alle 21.15, presso la Fortezza Medicea, che ospiterà il successivo scenario della terza edizione dell'Aquila d'Oro. E andrà a rinnovare un atteso appuntamento dell'estate a Retina, che farà anche affidamento sulla presenza di grandi ospiti del calibro del commissario tecnico della Nazionale di ciclismo su strada Daniele Bennati e dell'artista Sergio Sgrilli da Zelig. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.